Nella placenta c'è una miniera di dati sulla salute del bimbo e della mamma. La placenta infatti è l'organo che fornisce nutrimento e ossigeno al feto. Un danno placentare, che può essere spesso vascolare o infiammatorio, può ridurre il flusso sanguigno al cervello del bambino, provocando un ictus. L'ictus perinatale è una condizione in cui vi è un'interruzione del flusso ematico cerebrale e può avvenire già in utero a partire dalla ventesima settimana di gestazione fino al ventottesimo giorno di vita postnatale. Tra i fattori di rischio possiamo ricordare le anomalie della coagulazione, le complicanze al parto, le infezioni perinatali e anche i difetti di funzionamento placentare. L'ospedale San Gerardo di Monza è uno dei centri di eccellenza dove la placenta viene studiata in relazione alle patologie fetali e neonatali per cercare di capire la correlazione tra il danno placentare e la sofferenza fetale. L'azienda socio-sanitaria territoriale di Monza, insieme a quella di Vimercate e alla Fondazione Monza e Brianza per il bambino e la sua mamma, da anni operano nella centralizzazione dei casi di neonati con patologie complesse. In particolar modo per lo stroke stiamo provvedendo la revisione morfologica delle placenti a disposizione per studiarne la correlazione con i dati del parto, della gravidanza e le variabili neonatali. La Fondazione Fight the Stroke nasce nel 2014 a seguito di un'esigenza personale nostra come genitori di Mario. La Fondazione oggi si occupa di essere vicina alle famiglie di un giovane sopravvissuto all'ictus e con una disabilità di paraiso cerebrale infantile e lo fa attraverso dei gruppi di supporto fra pari, prevalentemente online.